Il nostro corpo non è solo un soggetto fisico, è anche un soggetto cosiddetto eterico, con dei centri di energia, per chi conosce i chakra, con sette centri di energia che interagiscono continuamente con tutte le nostre funzioni corporee e mentali. Un aspetto che è sconosciuto è più, nessuno se ne occupa fino a quando magari non è costretto da un qualcosa di grave e questa energia è alimentata o debilitata dalle scelte alimentari che facciamo, dal cibo che mangiamo, mangiamo cibo buono, naturale, fresco, mangiamo fast food. Cosa mangiamo? L'acqua che beviamo, l'acqua, siamo il 70 per cento di acqua, il nostro corpo, le nostre cellule il 90 per cento di acqua. l'acqua che beviamo è fondamentale, la qualità e l'energia dell'acqua che beviamo, l'aria che respiriamo, stesso discorso, oggi è talmente inquinata che contribuisce a debilitare completamente le nostre difese. Le frequenze in cui siamo immersi, telefoni, cellulari, computer, wifi, cordless, televisione, radio, cioè siamo immersi da frequenze che non sono biologiche, che non sono per il corpo, sono pericolose, possono diventare estremamente pericolose e quindi anche di questo dobbiamo occuparci. che sono molto comode, pensate, televisione, telefoni, cellulari, computer, sono molto comodi ma hanno degli effetti collaterali di cui dobbiamo preoccuparci e di cui dobbiamo aver cura di informarci per come difenderci. ci sono dei periodi in cui la gente, purtroppo molto lunghi, compra le cose per moda, perché ne parlano tutti, perché ce l'hanno tutti, perché me l'ha detto l'amico eccetera. Per quanto riguarda alcuni prodotti che propone Sicur Salute nella nostra azienda è stato l'estrattore, è stato un periodo, due anni di moda per cui tutti lo compravano, magari poi neanche lo usavano, neanche sapevano il perché, neanche consideravano che tipo di estrattore compravano, se era funzionale al loro scopo, se ce l'avevano lo scopo o se era così per moda. Bene, adesso è passato, per fortuna, è passato questo periodo di moda. Oggi le persone che si avvicinano a queste realtà, a questo modo di alimentarsi, di approfondire la propria salute, lo fanno per consapevolezza. cercano di essere consapevoli di che cosa vogliono fare, per quale motivo, con che tipo di risultati e quindi vanno anche ad approfondire e analizzare gli strumenti. Lo scopo è quello della salute, dei benefici che posso ottenere per il mio benessere e per la mia salute. La nostra azienda, Sicur Salute, ha fatto lo stesso ragionamento. Cioè, da dieci anni noi cerchiamo, nelle fiere nazionali, internazionali, in internet, eccetera, di trovare sempre delle soluzioni migliorative per arrivare ad avere il massimo beneficio da quello che assumiamo, da quello che mangiamo, da quello che beviamo, da quello che respiriamo. E finalmente, credo allo stato attuale, siamo arrivati a produrre una linea che si chiama Life Energy, energia per la vita, Life Energy, e applicarla su alcuni nostri prodotti in modo da renderli veramente straordinariamente interessanti. Interessanti non tanto e solo per le caratteristiche meccaniche e di processo, ma soprattutto per la qualità del prodotto che viene elaborato attraverso questi strumenti. e questo ci è stato consentito dalla ideazione, dalla progettazione di uno strumento che chiamiamo Gold Disc. Abbiamo dato un nome prezioso, disco d'oro, perché è veramente un disco d'oro. In collaborazione con una primaria società svizzera che si occupa di frequenze e con la quale collaboriamo anche, per esempio, per la protezione dagli elettromagnetismi di tutti i generi, quindi dai circuiti elettrici, alla elettricità corporea e via discorrendo. Ecco, con questa collaborazione è nato il Gold Disc. È un generatore di frequenze vitali che ovviamente in che maniera ci benefica, in che maniera benefica i processi che facciamo con l'estrattore di succo, con l'ionizzatore d'acqua, con l'estrattore d'olio, aumentando, ridando una notevole energia a questi prodotti e soprattutto rimodulando, rienergizzando, riportando a una frequenza vitale tutte queste frequenze che ci circondano e che sono dannose, tipo l'elettromagnetismo del motore, le frequenze delle plastiche, le frequenze della dirty electricity negli ambienti in cui viviamo, cioè tutte queste frequenze negative vengono riarmonizzate, cioè riportate a una frequenza vitale compatibile con la nostra biologia. In questa maniera, credo, siamo arrivati ad avere dei prodotti, degli strumenti veramente unici. Unici, io non ne conosco altri, conoscendo molto bene tutto il mercato nazionale e internazionale, in modo tale che gli estratti, per esempio, parliamo degli estratti energizzati, vengono prodotti con le loro relazioni molecolari nel loro stato più puro e biocompatibile. Pensate, il succo è estratto all'interno di un campo di energia vitale molto nutriente, cioè questo toroide vibrazionale vitale protegge e amplifica moltissimo l'energia vitale del prodotto che poi andiamo ad assumere, che sono i succhi, che sono i lati vegetali, che sono i sorbetti, che sono i gelati prodotti con Life Energy Pro, così lo chiamiamo. Questo viene fatto per l'estrattore, per l'estrattore. Abbiamo realizzato la stessa cosa anche per gli oli, gli oli estratti da semi oleosi, oli che hanno caratteristiche straordinarie. Abbiamo parlato molto dei semi di chia, quindi dell'olio di chia, piuttosto che dell'estratto dell'erba di grano, per farne due, ma possiamo parlarne e ne parleremo in maniera molto più estesa anche di altri. Bene, questi che hanno già di loro delle proprietà nutrizionali straordinarie, hanno una capacità antiossidante incredibile. Il melograno per dire, il melograno ha 7000 ORAC. ORAC è un termine abbreviato per indicare la capacità antiossidante di un cibo. Bene, quindi di loro hanno delle grandi proprietà. Immaginate caricati e protetti da un'ulteriore energia nel momento in cui vengono elaborati e quindi assunti praticamente subito. Questo nel tempo crea un campo talmente forte, talmente potente di energia nel corpo e come dire, un campo vibrazionale che consente al corpo stesso di elaborare tutta la sua potenza, tutta la sua capacità di proteggerci da fenomeni esterni. Quindi questa frequenza di questo campo toroidale viene trasferita al succo o all'acqua e riarmonizza tutte le frequenze dannose che ci circondano nel momento in cui operiamo. Cosa dire, questo è il motivo per cui noi abbiamo continuamente approfondito i nostri temi e siamo arrivati da un punto veramente straordinario, importantissimo. Cosa dire, secondo te, secondo te, secondo me.